fratelli juventini e sorelle juventine abbiamo ancora negli occhi la splendida partita giocata dalla juventus qui a parma da dove trasmetto e quindi noi che cosa vogliamo vogliamo che domani sera alle 20 45 quando scenderemo in campo a torino la splendida città che ho alle mie spalle la juventus ripeta la prestazione che appunto ha diciamo snocciolato a parma e così si andrà ad aggiungere a delle bellissime prestazioni come quella di barcellona o come il primo tempo di con l'atalanta per cui questa juventus sta prendendo piede diciamo sta rodando pirlo pare stia riuscendo lo dico con scaramanzia trasmettere i suoi dettami domani sera sulla carta giochiamo contro una squadra che verrà a torino a mettere il pullman anche se anche se l'allenatore nuovo della fiorentina Cesare Prandelli che peraltro io e la mia famiglia conosciamo personalmente in particolare mia moglie lo può quasi considerare un amico abbiamo addirittura il suo numero di telefono se vi può interessare è una persona che è molto intelligente sa come imbrigliare le squadre avversarie di grande talento ricorderete come imbrigliò la spagna agli europei per poi sbagliare la finale perché purtroppo sbagliò la finale ma nei gironi la incontrò e la imbrigliò la spagna non riuscì praticamente a cavare un ragno nel buco quindi bisogna stare molto attenti perché tatticamente Prandelli secondo me è molto molto bravo poi purtroppo la sua carriera è stata segnata da fallimenti perché chiaramente nel calcio non tutto quello che tu promulghi come idee viene trasmesso in campo dei giocatori anche perché se i giocatori non ti seguono i giocatori non ti ascoltano come è successo per esempio noi l'anno scorso con Maurizio Sarri non vai da nessuna parte quindi è molto importante che la Juventus domani sera ascolti con grande attenzione Pirlo perché il Milan e l'Inter come vedete non perdono un colpo noi ci aspettavamo che l'Inter vincesse con la Spezia ovvio ma magari che il Sassuolo che sta facendo un campionato splendido fermasse almeno sul pareggio il Milan ce lo potevamo aspettare e invece no il Milan senza Ibra ha vinto a Sassuolo o meglio a Reggio Emilia ma comunque non importa fatto sta che siamo terzi a quattro punti dal Milan e a tre punti dall'Inter per cui siccome a gennaio le incontreremo entrambe in trasferta perché il calendario del Juventus sarà molto più agevole se lo andate a guardare nel ritorno incontreremo Milan il 6 gennaio e poi a metà gennaio incontreremo l'Inter faremo praticamente nel giro di 15 giorni due trasferte a Milano è importante che dia continuità con la Fiorentina a quello che si è visto nelle ultime partite mi auguro che Pirlo abbia le idee chiare sicuramente qualche giocatore lo farà rifiatare perché stiamo giocando ogni tre giorni Barcellona, poi dopo l'altra partita, poi l'altra partita, poi l'altra partita in poche parole stiamo giocando ogni tre giorni per cui bisogna assolutamente mettere in campo quelli che hanno voglia, forza fisica e forma chiaramente ci sono giocatori che sono impredicato di entrare in campo come Ramsey che però dipenderà molto da come sta perché Ramsey, lo dico così magari che abbiamo un equivoco che è sotto con le pagiare dell'altra sera Ramsey è un giocatore che a me piace, del centrocampo della Juventus è il giocatore che mi piace di più di tutti in assoluto, anche più di Artur il problema di Ramsey non è la scarsezza o non talento il problema di Ramsey è che è un giocatore che non è riuscito a fare l'anno scorso due partite di fila stessa cosa quest'anno, cioè non riesce a fare due partite di fila ma non perché non è visto bene dagli allenatori, perché gli allenatori non sono scemi, lo vedono benissimo è perché purtroppo è un giocatore che ha molti acciacchi, diciamo molti acciacchi per non dire che è rotto perché chiaramente se Ramsey stesse bene sarebbe tanta roba sarebbe tanta roba, perché io ricordo il Ramsey dell'Arsenal e era veramente tanta roba per cui signori, domani sera non ci sono storie, non ci sono scusanti, non ci sono alibi dobbiamo continuare a vincere perché poi alla ripresa del campionato, il 3 gennaio avremo l'opportunità di giocare ancora in casa e con l'Udinese un'altra partita che dovremo fare nostra per guadagnare altri tre punti insomma, dobbiamo mettere Fieno in cascina perché quando verrà il momento del freddo, dell'inverno gelido di gennaio e di febbraio noi avremo due scontri diretti a Milano con Milan e Inter e lì, se per sbaglio non siamo attaccati con un pareggio o addirittura con una sconfitta rischieremo di uscire dalla lotta a Scudetto un po' troppo presto per cui signori, domani sera Juve Fiore deve essere una passeggiata deve fare una partita come quella di Parma andare in campo, non mollare nessun pallone recuperarlo appena perso e soprattutto se si fa un gol bisogna cercare di farne un altro se ne fanno due bisogna cercare di farne un altro signori, ci vediamo domani con le analisi e le pagelle ma, ma, questa sera verso le 19, 19.30 non perdetevi la puntata speciale di Juventus Show dedicato a un uomo volante The Flying Man chi sarà? lo scoprirete solo quando guarderete Juventus Show questa sera su Max Ponteina Channel fino alla fine Forza Juve Forever and Ever Hubert Halles Eternally CR7 Ciao 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 Mi